Con Biagio Luiudice del gruppo Luiudice Lucariello, uno dei gestori di questo gruppo commerciale supermercati DOC, riprendiamo il discorso che abbiamo affrontato con il direttore. Parliamo, carissimo Biagio, dei programmi futuri del gruppo supermercati DOC, quindi 1200 metri quadri di esposizione, che programmi altro prevede il gruppo supermercati DOC, Luiudice? Allora, abbiamo un'ottima programmazione, da qui a due o tre giorni facciamo subito un evento di sfilata di Miss Italia, poi successivamente vedremo un attimo di programmare un piccolo parco giochi con mercatino e punto ristoro per tutti il dintorno di Metaponto ed altro. Iniziamo con questo piccolo pacchetto per vedere un attimo come va la situazione, poi vedremo sala cinematografica, tavola calda, pasticceria, rosticceria, negozi e abbigliamenti, elettrodomestici. Iniziamo con questa cosa e poi vediamo come vanno. Quindi si prospetta un grande centro commerciale, cinema, naturalmente sala giochi, ristorante, quindi Metaponto Borgo si doterà di un grande centro commerciale o iudice? Assolutamente sì, noi vogliamo che entro maggio 2012 deve essere un vero centro commerciale, quindi da ora iniziamo come abbiamo iniziato col supermercato e da qui a due o tre mesi vediamo di aprire immediatamente il punto ristoro, bar, pasticceria, rosticceria e tavola calda, successivamente negozi di elettrodomestici e abbigliamento e se tutto va bene per novembre e dicembre una bella sala cinematografica per far vedere finalmente a questo paese come Bernalda, Marconia e tutti altri film senza nessun tipo di problema di spostarsi da altri paesi.